Musica Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, è il mio ultimissimo video Oggi siamo qui in un video tag che devo dire non portavo da davvero davvero tanto tempo Era un bordello di tempo che non portavo un video tag e sono contenta di ricominciare a farli Mi scuso se sono in pigiamo ma mi sono sbagliata circa 5 minuti fa ed è tardi quindi GG Charlie Cosa sono i video tag? I video tag sono dei video nel quale c'è un argomento prestabilito In questo caso l'argomento è Ahimai quindi ci saranno tutte domande che cominciano con Ahimai E io devo rispondere a circa una decina di queste domande che mi avete fatto voi sulla pagina Facebook Quindi lasciate un mi piace alla pagina Facebook che trovate nella descrizione E io dopo aver raccolto tutte le vostre domande vi rispondo Mi raccomando ragazzi se volete altri video tag lasciate immediatamente mi piace a questo video E se arriviamo a 3000 like farò un altro video tag che mi consiglierete voi sotto i commenti Prima di cominciare però vorrei dirvi una cosa importante Voglio ringraziare Frozen per avermi fatto la nuova grafica per la mia nuova pagina Facebook Che è meravigliosa La trovate nella descrizione della pagina Facebook E vi lascio anche lo speed art di Frozen che vi fa vedere come ha realizzato questa grafica Ed è meravigliosa Se volete seguire dei tutorial degli speed art su come imparare a fare grafiche Vi consiglio di iscrivervi a cani di Frozen che è bravissimo E mi raccomando lasciate like anche alla mia nuova pagina Facebook Charlie M Pro Production Che praticamente è la pagina Facebook che riguarda la parte un po' più professionale Li metterò le cose che faccio I lavori su commissione Tutti i video musicali di cui sto lavorando Sapete il mese prossimo è pieno Per me voi non avete idea di quante richieste sto ricevendo E proprio questo mese uscirà un nuovo video musicale con una persona piuttosto importante Magari la conoscete pure Però non voglio spoilerarvi ancora nulla Anzi se volete spoiler dovete andare sul canale di Telegram che vi lascio nella descrizione Mi raccomando andatelo a guardare Ok cominciamo con le domande Simone ci chiede Hai mai registrato un gioco fichissimo che ci sarebbe sicuramente piaciuto Hai scoperto che tutta YouTube Italia l'aveva fatto? Se sì qual è stata la tua reazione? Sì mi è successo non mi ricordo con quale gioco L'ho registrato Ho pensato wow questo gioco non l'ho ancora visto in giro L'ho caricato e nei commenti mi hanno scritto tutti Allora ho fatto questo 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 e questo E io ma no ma come? Non ricordo assolutamente che gioco fosse Ricordo solo che era un gioco bellissimo Salvatore mi chiede Hai mai pensato che tutto ciò che ti rende felice O che ti rende poco fiera è perché vuoi sempre migliorare? In realtà ciò che mi rende felice Non è che mi rende poco fiera perché devo migliorare Il fatto che io debba migliorare non è una cosa che va a intaccare la mia felicità Perché si può sempre migliorare Anche i professionisti possono migliorare Io migliorerò fino alla mia morte In tutto ciò che faccio L'importante è sempre migliorare e non credere mai di essere arrivati Perché non si arriva mai Finché non si muore si può sempre imparare qualcosa di nuovo Su quello che si fa o su quello che non si fa Non è importante Si può sempre migliorare Damiano chiede Hai mai pensato che tutta la vita e tutti gli avvenimenti siano fatti per testare le tue capacità? Ti adoro Innanzitutto grazie Damiano Comunque no Non ci avevo mai pensato E effettivamente è strana come cosa Perché potrebbe essere Cioè noi non lo sappiamo cosa c'è dopo la morte Ma immaginatevi se dopo la morte ci fosse la vita vera Cioè se questa è tipo una previta Che fa capire in cosa siamo bravi Ci fa allenare E poi dopo ci sarà una vita completamente diversa La vita vera Che questo qui è solo un allenamento Quello che stiamo vivendo adesso È strano se ci pensate Però è una cosa fichissima Fabiana chiede Hai pianto per dei commenti offensivi? Sei simpaticissima Se puoi saluta Ciao Fabiana Perché oggi sono dislessica Comunque No Non ho mai pianto per un commento offensivo Però a volte mi hanno dato molto fastidio Dei commenti offensivi Non verso di me Perché quando li fanno verso di me Io non mi offendo Perché la gente non mi conosce Quindi non mi sento offesa Da persone che non mi conoscono Mi offendo se un mio amico mi offende Ma se non mi conosci Non puoi offendermi Perché non sai come sono Ma molte volte mi sono infastidita Perché insultavano invece persone a me care A me danno fastidio Quando mettono in mezzo persone che non c'entrano E offendono persone che io amo Perché io molto spesso amo più gli altri Che me stessa Che cosa romantica da dire Alfredo chiede Alfredo chiede Hai mai avuto un forte mal di pancia Mentre eri in giro in una città grande Ma non c'erano i bagni Ciao Charlie Ciao Alfredo No Mal di pancia Che io ricordi No forse sì Ma non lo ricordo Però la pipì Sì molto spesso Mi è capitato di dover fare pipì E non sapere dove farla E una volta Non troppo tempo fa Me la sono fatta addosso Non tutta Però mi sono fatta un po' di pipì addosso Perché non ce la facevo più Segreti imbarazzanti Che si scoprono Guardando i miei video Dovreste guardarli più spesso Jacopo chiede Hai mai pianto per una relazione Andata male con un ragazzo Ciao Charlie Mi potresti salutare Continua così Ciao Jacopo E sì Mi è successo Anni fa ormai Ero in primo superiore Ora sono in quinto Quindi pensate Un bel po' di anni fa E mi ha fatto Molto soffrire Quella rottura Perché diciamo Che non era stata colpa mia Non voglio dirvi Il motivo Per il quale avevamo rotto Perché Il ragazzo È ancora mio amico E lo sputtanerei Anche perché è già comparso Sul canale Questo ragazzo E lo sputtanerei per sempre E mi dispiacerebbe Però lui adesso Si è pentito Per quella cosa Però adesso Siamo buoni amici Ed è cambiato Adesso è un ragazzo Con la testa a posto Un'altra volta Invece ho pianto Perché una relazione Era andata troppo bene Ma dovevamo lasciarci Perché eravamo lontani L'avevo conosciuto In estate Era un ragazzo fantastico Io non ho mai conosciuto Un ragazzo migliore di lui Assurdo Però abbiamo dovuto lasciarci Perché lui era del nord E io ero di dove sono Hai mai incontrato un fan Per strada E per colpa di un impegno Altre cose Non l'hai potuto salutare Se sì Come ti sei sentita Innanzitutto Ciao Cristian E ti ringrazio Sì Mi è capitato Non proprio così Cioè Mi è capitato una cosa simile Nel senso che Ho incontrato il fan L'ho salutato Di sfuggita Perché troppo imbarazzata Ho subito distolto lo sguardo Mi capita spesso Che incontro In autobus Dei miei iscritti Che mi salutano Io sono così imbarazzata Che faccio un mezzo sorriso Li saluto E poi distolgo lo sguardo E mi sento molto maleducata A fare questa cosa Ma non lo faccio Perché non voglio parlare con loro Ma perché mi imbarazzo Io per prima Cioè sono imbarazzatissima Quando incontro persone Che mi seguono Anche per strada Ormai mi capita Ed è una cosa stradissima Che io mentre esco Il sabato sera Per il centro A un certo punto Mi fermano dei ragazzi E io sono così imbarazzata Che vorrei scappare via Ma in realtà Voglio anche rimanere Quindi impazzisco Jacopo chiede Mi hai pensato Di ricevere la lettera Di Hogwarts Guarda Jacopo Ti dirò la verità Io la sto ancora aspettando Hai mai rischiato Di morire la piccola Se sì come Ti stimo Se puoi salutami per favore Ciao Lisa Sì mi è capitato Non ero tanto piccola È successo Forse tra il primo Il superiore Il secondo Tra la terza media Il primo superiore Non ricordo Comunque Ho rischiato Di essere investita Da un treno Perché Dove vado io al mare A San Menaio C'è una rotaia Che non è protetta da niente Non ci sono passaggi a livello E la rotaia è proprio Tra la strada e la spiaggia Quindi tu la devi Continuamente attraversare Il treno non passa spesso Solo che io in quel momento Ero distratta Non avevo proprio sentito Il rumore del treno Che arrivava E mi stavo buttando Cioè stavo completamente Stavo andando in spiaggia Senza guardare Che il treno Stava per passarmi in faccia Per fortuna Che fai anche a me C'era una mia amica Che mi ha fermato Prima che io morissi Se non ci fosse stata lei Io sarei veramente morta Però sono qui Quindi GG Alice Hai mai scoperto Di essere stata ingannata Solo dopo degli anni? Sì Sì è successo È stato terribile Io Io ci credevo davvero È quello il fatto Ci sono stata male È stato difficile per me Molto difficile Non riesco nemmeno A parlarne adesso Ma Dopo anni Capisco che Sono stata stupida Non rendermene conto Sono stata molto stupida Poi però Mia madre me l'ha detto Mi ha detto che Babbo Natale non esiste Quindi ragazzi Questo era il videotag Ahimai Mi raccomando Se avete altri videotag Che vorreste farmi fare Scriveteli tutti nei commenti Suggeritemeli tanti Se però potete Nuovi videotag Quindi andate a controllare Quelli che ho già fatto C'è una playlist sul canale Dove ho raccolto Tutti i videotag Che ho già fatto Questo qui L'avevo già fatto tempo fa Ma ho voluto rifarlo Per tutti i nuovi iscritti Che non l'avevano visto Comunque Io spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti like Tanti commenti Nei c'è per i segni video Ciao a tutti ragazzi